Matteo Volturini e la sua storia? Di dov'è? Di Reggio Emilia. Ah, proprio? Sì. Quanti siete i reggiani, Rosa? Penso solo io. C'è anche Sanate, ecco, che è venuto quest'anno, anche lui reggiano e gli altri, e basta, che sono solo due. Quartiere suo? Quartiere Canalino. Ah. E anni? Anni 23. La sua carriera? Il primo tesseramento? Quando fu? Ah, è stato un po' tardi a Reggio Calcio, a giocare, poi dopo sono andato... A quanti anni? A tre 15 e 16 anni, diciamo, abbiamo iniziato a votare, poi sono andato alla Reggiana, in tutti i beretti, dopo ho fatto a Serie D, Triestina, prima in Veruno, poi Triestina sempre in Serie D, abbiamo iniziato il campionato, anche a Pisa e poi a Fani Lega Pro. Di cui da titolare? Titolare, l'ultimo, sempre fatto abbastanza titolare, ecco. Quindi, molto spesso. Idol, a chi somiglia come caratteristiche? Idol, non mi piace, andano, vince, tanti altri portieri, bucconi, sicuramente, sono due riferimenti. A chi somiglia? A chi somiglio? Non so, a quello, non saprei dirlo. Obiettivo stagionale? Obiettivo, non metto a mia disposizione della squadra, cerca di recuperare bene da questo problema, da questo infortunio che ha avuto e metto a mia disposizione. Infine, le emozioni proprio di Reggiano e Reggiana? Beh, è bello tornare qua, poi questa parida è affascinante, tornare in un stadio che ha significato tanto e molto bello. Grazie.